È la mia bacchetta magica, quindi adesso non mi metto in giro a chiaramente far finta di usarla, però sta con me perché mi porta fortuna e me la tengo sempre dentro la trousse. Ciao Vogue, sono Matilde Gioli e oggi vi svelo che cosa tengo nella mia borsa. Così come la casa, l'armadio, anche la borsa dice molto di noi. Come si può vedere è molto carica, è piena, è esplosiva e effettivamente mi rispecchia perché anch'io sono sempre piena di cose da dire, di cose da fare. È pesante, a volte anch'io sono un po' pesantina. Io ho bisogno di scrivere ancora a mano le cose perché segnarle sul cellulare, sul computer o sul tablet non mi permette di fissare nella memoria le cose. Infatti spessissimo mi dimentico di alcuni appuntamenti. Mi piace anche tutto il mondo della cancelleria e ogni anno mi scelgo bene la fantasia sulla prima pagina e in questo caso ho scelto le costellazioni. Siccome ho tirato fuori l'agenda, qui ci sono gli immancabili, che sono la penna, anche questa è sempre scelta col cuore perché è molto importante la penna con cui scrivo e poi ci sono sempre gli evidenziatori, i colorini me li porto sempre dietro perché devo distinguere bene ogni impegno dall'altro, quindi io vado per colori. Un elemento fondamentale senza cui non posso stare sono gli occhiali da vista. Da una decina d'anni sto peggiorando un pochino, ho un occhio mio per uno astigmatico, quindi per le operazioni fondamentali della mia giornata come leggere, guidare, eccetera, eccetera, gli occhiali li devo mettere. Allora, questo oggetto è altrettanto importante, è il guinzaglio del mio cane Kalel che oggi è a casa a riposarsi con la gatta ma che è sempre con me, anzi è proprio dentro la borsa perché è un cagnolino microscopico quindi diciamo che gli piace molto camminare quindi è difficile che lo porti in borsa ma se è necessario entra tranquillamente qua dentro, infatti come si può vedere dalla dimensione del guinzaglio è piccolino. C'è anche la sua pettorina, ne ha tantissime, oggi c'è quella rossa. Parlando sempre di Kalel, intanto scavo la mia ispiratrice è Mary Poppins con quel borsone da cui escono lampadari. C'è anche, immancabile, la sua ciotolina per l'acqua perché il signorino spesso ha sete, quindi questa viene sempre con me. Dunque, siccome uso tantissimo il cellulare come tutti noi, questo è il mio caricabatterie, ci deve essere per forza perché dopo una vita chiederlo in prestito agli altri alla fine mi sono detta che devo avere sempre il mio. È enorme perché così mi posso attaccare anche a tre metri di distanza, non chiedetemi come entra anche nelle pochette più piccole. Qua c'è un grosso blocco che possiamo dire è una borsa nella borsa, nel senso che è come un sotto insieme, si sposta di borsa in borsa con tutto il suo contenuto. È la mia trousse, ci sono molto affezionata, infatti c'è la mia iniziale. E quindi facciamo una scoperta del contenuto della borsa dentro un'altra borsa. Mi porto sempre dietro poche cose che riguardano appunto il trucco e le creme. Questa è una crema viso a cui sono molto affezionata e siccome spesso, soprattutto adesso col tempo, col vento invernale mi disidrato subito, capita che almeno quattro volte durante la giornata io abbia bisogno di incremarmi. Ho sempre questo prodottino che fa sia da lucida labbra un po' rosato colorato, sia da blush. Visto che io quotidianamente non mi trucco tantissimo, ma cerco di avere sempre magari le guance piene di vita e le labbra un po' colorate. Lo porto sempre con me e mi salva, spesso in situazioni in cui magari devo presentarmi a un appuntamento, sono completamente struccata, quindi mi serve un po' di vita e quindi uso questo. E poi c'è una cosa un po' strana, lo so che è particolare, è un mio portafortuna. Questa è la bacchetta di Voldemort. Per gli appassionati di Harry Potter è una bacchetta magica del cattivo del film. È la mia bacchetta magica, quindi adesso non mi metto in giro a chiaramente far finta di usarla, però sta con me perché mi porta fortuna e me la tengo sempre dentro la trousse. Allora, questo è un elemento, questa cosa è ridicola perché io mi porto sempre l'acqua, ma la mia bottiglia d'acqua è sempre piena e chiusa perché alla fine non bevo mai. Quindi non solo la borsa poi è sempre pesante perché c'è una bottiglietta d'acqua aperta, ma è una cosa completamente inutile perché adesso siamo a metà giornata e la bottiglia è ancora intatta, non è mai stata usata, quindi vabbè. Però lo faccio. La lettura per me è importantissima, è un mio grande momento di sfogo e di svago e anche un po' di evasione dalla realtà. Nel caso, vabbè, ho iniziato adesso questo, il codice dell'anima. Ne ho appena finito uno molto alto, un libro da 1500 pagine e comunque lo metto in borsa. Devo avere la possibilità, appena un momento di pausa, di potermi prendere il libro e ovunque io sia mettermi a leggerlo. Ah, questo è molto interessante. Non sempre riesco ad allenarmi, ma io faccio finta che in qualsiasi momento della giornata io riesca a prendermi una pausa e magari se sono in giro in una stanza di hotel o se sono magari nella mia città anche in una palestra, mi porto sempre un elastico. E quindi, siccome a me piace allenarmi, questo elasticchino mi permette in qualsiasi momento di allenarmi, ovunque io sia. Sono malata di profumi, di fragranze. Nella mia borsa c'è sempre un profumo. Nonostante io sia fedelissima a un profumo che usavo quando ero piccolina alle rose, ogni mese trovate un profumo diverso nella mia borsa. Ma un profumo lo trovate, perché ogni 4-5 ore mi devo dare una spruzzata e sentirmi molto molto profumata. Quindi... Eh sì, il portafoglio direi che è fondamentale per tutti quanti, anche se ammetto che è uno degli oggetti che mi dimentico di più. Le cuffiette sono fondamentali, soprattutto quando lavoro. A volte le metto senza neanche mettere musica, radio o altro, ma semplicemente per creare uno scudo con il mondo esterno e potermi concentrare sul personaggio che devo fare. Quindi queste ci devono essere sempre. Se sono scariche, non importa, perché non sempre serve che io le accenda. Però ci devono essere. Ciao, sono Matilde Gioli. Vi ringrazio per avermi seguita nel viaggio all'interno della mia borsa e per altri contenuti di Vogue potete cliccare qui. Grazie a tutti.